pronostico italia uruguay mancano sei ore ormai mondiali non la vedo tanto bene non li vede bene nel senso che quando noi abbiamo due risultati su tre a disposizione scegliamo sempre il terzo e poi alla fine ci scappa sempre la sorpresa oppure quando andiamo ai rigori perdiamo noi quindi direi ma pure io sono fortemente preoccupato però però non avete bene quindi pronostico secco pronostico secco 1 a 0 per l'uluguay magari segna proprio il matador cavani no no chi segna suarez grazie grazie bel pistolero grazie buongiorno